Il Comune di Biella ha deciso di prendersi cura dei parchi, della vegetazione e di iniziare una lotta contro le zanzare. La Giunta ha infatti approvato il progetto relativo alla gestione e cura del verde pubblico. Gli obiettivi principali sono la manutenzione e il miglioramento dei parchi cittadini, oltre che di tutti i punti verdi presenti, per un mantenimento e un buon utilizzo degli spazi verdi sul territorio. Per svolgere al meglio questa iniziativa si pensa anche di diffondere buone pratiche per la cura del verde, tra gli abitanti. L'assessore a parchi e giardini Gigliola Topazzo spiega che il progetto partirà a breve e che sarà gestito in tre lotti omogenei, con l'affidamento dei lavori a piccole imprese, per un operato più veloce ed efficace anche nei periodi di uno sviluppo più consistente della vegetazione. Nella stessa seduta la Giunta ha confermato l'adesione del Comune alla campagna di lotta biologica contro le zanzare. Questo piano nazionale è nato per proteggere la salute delle persone da tutte quelle malattie virali trasmesse tramite zanzare e zecche. L'assessore Topazzo afferma infatti che, agendo con interventi e attività di monitoraggio sulla diffusione di questi insetti, si potrebbero prevenire grandi spese sanitarie da parte dei cittadini ed evitare la possibile comparsa di altre epidemie.